Mi scusi, buon uomo? Mi sa dire l'ora, per favore? E' 5.35 Ma è sicuro? E' 36, mo Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino, eh? E' no Senta, mi sa dire che ora sono adesso? Andra volta Le sette e un quarto E' no Ma sono le sette e un quarto a spaccare, incredibile Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le arzo Sotto c'è il campanile, vedi? Che avvenire? Sette e un quarto